Ormoni e neuroni, il primo reality ambientato nella mente umana, addirittura, pure qui. Ogni giorno ci svegliamo e compiamo delle azioni, ogni giorno elaboriamo dei pensieri e compiamo delle scelte. Tutto ciò avviene nella nostra testa, ma siamo sicuri di sapere come funziona. Il nostro cervello è diviso in due emisferi, l'emisfero sinistro, anche detto emisfero razionale, e l'emisfero destro, anche detto emisfero emotivo. Ed è proprio l'interazione tra queste due parti che determina le nostre azioni, dalle più insignificanti alle più importanti. Ad esempio, cosa succede quando ci innamoriamo? Eh, cosa succede? Tre anni, singolo. Singolo ci credo. Dalla nascita credo. Ah, da troppo? Non lo so se da troppo. Beh, però, poi vede una donna, anche carina. Che c'è? Che è? Beh, hai vista? Sì. È bellissimo, affermiamoci. No? Dai, non sei entusiasta di conoscere una donna? Eh beh. Eh... Eh, vabbè, quanto entusiasta. Guarda, sono talmente entusiasta che quasi quasi... Poi, ci fermiamo, però davvero? Sì! E magari le chiediamo il numero di telefono? Dai! Sì! E magari, che so, ci usciamo insieme? Eh! Sì! No! Ma come no? Beh, sta parte razionale. Mamma mia! Non funziona tanto bene. Niente. E ha vinto? È andato. Occasione persa. Però... E se non ci fai davo, sappia che tengo per tutta la vita! Sì, vabbè, però più dignità! Su! E lasciami stare! Eh, vabbè! Devi toccare! Beh, tutta una vita così. Ma non ti capisco, cosa c'è? Certo, tu non mi capisci mai, non mi capisci! Dai, se devi fare così ci fermiamo. Oh! Sì, sai cosa dirle? Sì. Lo sa? Sì, lo sa cosa dirle. Lo sa? Non mi sembra abituatissimo, però. Vediamo. Allora? Beh? Dai, dai! Su! Su! È il tuo grande momento, dai! Dai, l'ha aspettato per 23 anni! Dai, su! Ce la faccio! Ma come? Allora, su, ti fermi e le dici qualcosa. Bravo! Cosa? Eh... Eh... Ma carino, una roba giù. Ah, beh! Così funziona, eh! Eh, beh, bene! Per dire! Senti, se non parliamo, adesso ci piglia per un malire. Hai ragione. Scusa, se non parliamo, se non parliamo, se non parliamo, se non parliamo, se non parliamo. Cosa? Mettetevi d'accordo, perché... No, no, non puoi lasciarlo lì in balia! L'ha voluto lui! La farà? Secondo me, alla fine. Forse. Bella giornata oggi, eh? Eh, vabbè. Com'è? Bella giornata oggi, eh? Non mi sembra, eh? Somma, così. È proprio di no! Però... Ma non così! Devi dire qualcosa che la colpisca! Allora sfoggio tu la tua cultura! Settiamo! Ah, giusto! Cosa? Lo sapevi che l'orgasmo di un maiale dura 30 minuti? Ma vabbè! Lo sapevi che l'orgasmo di un maiale dura 30 minuti? Beh... Beh, buon per lui! Ah, è anche spiritosa! 30 minuti! Beh, e lo sapevi che inoltre i maiali non possono fisicamente guardare il cielo? Interessante! Beh, e ci sfido! Con 30 minuti di orgasmo, cosa ne ne frega i maiali di guardare il cielo? Beh, questo è vero! E stai cercando di dirmi qualcosa? Eh, magari! E' più intelligente! Cioè, io... Sì, volevo dirti che ti farei fare la fine dei maiali! No! Ma no, l'altra! Lo sapevo! Ma no, l'orgasmo di 30 minuti! No, l'orgasmo! Non è il cazzo! Piacere! Io sono Delmo! Piacere, io sono Tiziana! Sei simpatico! Eh! Oh, mamma! Grande! Simpatico! Sì, vabbè! Mi monterei la testa! Chiedi nel numero di telefono! Dai, chiedi nel numero di telefono! Vai, vai! Dai, chiedilo! Eh, vabbè! Eh, vabbè! Dai! Prova! Su! Posso avere il tuo numero di telefono! Dai! Vuoi per caso chiedermi il numero di telefono? Eh, se non si muove lei... Gzi! Gzi! Eh, la testa! Il maracanà! Facciamo anche la ola, già che ci siamo! È il numero di telefono! Sì, vabbè, basta! È il numero di telefono! Sì, allora... Hai da scrivere? È il numero di... No! Mi sa che non ha da scrivere! No! Ma no! Però ho una buona memoria! Sì? Ah, non è vero! E facciamo un'associazione di idee! Allora, 3, 2, 1! 3, 2, 1! Vabbè, 3, 2, 1 è facile! Procci partenza e via! Sì, procci partenza e via! 3, 3! 3, 2, 3! Gli anni di Cristo! Gli anni di Cristo! Sì, 3, 3! 3, 6, 5! Come giorni dall'anno! Come giorni dall'anno! Poi? 9, 1! 91! Eh... Come? 91? Ma lo dico a lui! Ah, se lo ricorda lui! Bene, bene! Se lo deve ricordare, eh! Vediamo! Chiamiamola, dai! Manta! No! Pronto? C'è qualcosa che non va! È 8, 4 finale! Carmelozzo, se tu che non ti fai per vedere che quando venne giù poi facciamo tutto... Ahiaiaiaiai! Questo me lo ricordo! Che numero era? 91 mi sembra! Eh, sì! Qualcosa mi dice che... Provo l'85! Ma no! Cosa, 85? 91! Ciao, sono Luana! Ahiaia! Ti aspettano in mio studio dalle 8 alle 22! Vabbè, non è lei però! Tieni a trovare sensazioni meravigliose! Vieni a trovare! No! Non è neanche lei! E non è neanche l'85! No! Ho capito, ci sono 99 numeri e ci arriveremo adesso, no? Eh, un po' la volta! Penso di sì, però... Poi ti ho detto che ricevi Luana? Ah, dai! Dalle 8 alle 22! Mi sembra... Non è neanche lei! Non è neanche lei! Non è neanche lei!